L'ennesima emergenza rifiuti di Roma dovuta alla chiusura della discarica di Roccasecca si ripercuote su Civita Vecchia. Dalle 7 al 20 aprile 80 tonnellate di rifiuti al giorno a Fosso del Crepacuore. La talpa non è il mio assistito, l'afferma l'avvocato Capitani, legale difensore del dipendente comunale accusato di aver fornito documenti segreti sul forno crematorio dell'Alter. Il Vescovo Gianrico Ruzza rivolge gli auguri di Pasqua alla città, riscopriamo la fratellanza e non dimentichiamo di guardare al cielo, afferma. Nella giornata internazionale dell'autismo viene presentato il nuovo San Romolo con il sostegno di Cari Civ comune, format rinnovato ma divertimento e solidarietà assicurati. Ad una settimana esatta dall'inizio del campionato, Tegola per il Civita Vecchia in allenamento Cerroni si rompe il crociato del ginocchio sinistro, è la seconda volta per l'attaccante. Buonasera dalla TRC Giornale, diminuiscono i casi di Covid-19 a Civita Vecchia, nelle ultime 24 ore nella nostra città sono stati segnalati 17 nuovi casi positivi, come si legge nel consueto report dell'ASL Roma 4 e del Regione Lazio. Poco meno della metà il numero dei guariti, che sono 8 e intanto scende ancora il tasso di contagiosità nei tamponi rapidi eseguiti al centro diagnostico Bonarroti. Oggi sono stati eseguiti 144 tamponi e sono state riscontrate due positività per un tasso pari all'1,39%. Tra i positivi riscontrati un uomo residente a Civita Vecchia e una donna residente a Tarquinia. Intanto dal prossimo 20 aprile le vaccinazioni potranno avvenire anche in farmacia, lo ha annunciato ieri il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti annunciando l'intesa con un gran numero di farmacie disseminate nel territorio regionale, un'iniziativa che dovrebbe ulteriormente incrementare il numero delle persone immunizzate ma che desta comunque qualche perplessità. Nel suo annuncio Zingaretti ha spiegato, senza però precisare il perché che nelle farmacie il siero potrà essere somministrato a soggetti di età compresa tra i 55 e i 60 anni. In questo modo però si creerà inevitabilmente una disparità di trattamento con le fasce d'età superiori che potenzialmente avrebbero maggiore necessità di essere vaccinate. Infatti nella normale lista gestita dalle asle e dai medici di famiglia momentaneamente deve essere completata la fascia degli ultrasettantenni e quella degli ultrasettantenni difficilmente potrà ricevere la prima somministrazione entro il mese di aprile. In sostanza avrebbero il vaccino prima gli ultracinquantenni che alcuni ultrasettantenni e la gran parte degli ultrasessantenni. E aumenta anche se solo per un mese la quantità di rifiuti provenienti da Roma che saranno conferiti nella discarica di Fosso del Crepacuore. È l'effetto dell'ennesima emergenza rifiuti scattata nella capitale conseguente alla chiusura dell'impianto di Roccasecca che ha indotto ieri il governatore del Lazio Zingaretti a assumere un provvedimento temporaneo che tra l'altro dispone di spalmare in altre discariche i rifiuti precedentemente conferiti nell'impianto dismesso. Protesta il sindaco tedesco che attacca la collega romana Virginia Raggi. Sentiamo. L'ennesima emergenza rifiuti di Roma dovuta alla chiusura della discarica di Roccasecca si ripercuote anche su Civitavecchia dove per un mese arriveranno altre 80 tonnellate di immondizia. Il presidente della giunta regionale Nicola Zingaretti ha infatti deciso di spalmare i rifiuti capitolini su diversi impianti del Lazio adottando un provvedimento che avrà la durata di un mese. Tra i siti individuati anche quello di Fosso del Crepacuore che nelle intenzioni della MAD, la società proprietaria dell'impianto, doveva essere progressivamente dismesso. Il cronoprogramma prevedeva infatti che i rifiuti capitolini sarebbero stati soprattutto conferiti nella nuova discarica individuata a Monte Carnevale e in fase di ultimazione, ma prima l'arresto di Walter Lozza, proprietario di Fosso del Crepacuore e anche dell'impianto romano in costruzione e poi la chiusura di Roccasecca hanno fatto tornare Roma in piena emergenza rifiuti. Di qui la decisione del governatore Zingaretti di dare tempo un mese alla città metropolitana e a Lama per risolvere la questione, pena il commissariamento, dirottando nel frattempo i rifiuti capitolini negli altri impianti della regione. Una decisione, quella della Pisana, non gradita dal sindaco Ernesto Tedesco che esprime tutto il suo risappunto e critica duramente la collega romana Virginia Raggi. Il primo cittadino prefigura decine e decine di camion con rimorchio che dal 7 aprile fino almeno al 20 invaderanno le strade della città e annuncia massima fermezza nel mettere in campo tutto ciò che può fermare quello che definisce uno scempio che i civita vecchiesi non meritano. Tedesco si augura di trovare un ampio sostegno da parte di tutti, certo, aggiunge, non dei colleghi di partito della Raggi che ancora ieri mattina, con tempismo davvero singolare, mi chiedevano di fare il pubblico ministero sui procedimenti ambientali della regione, mentre la loro sindaca, proprio in regione, brigava per preparare l'ennesimo assalto a questo territorio. Tedesco conclude auspicando dai 5 stelle locali, prima ancora del sostegno delle scuse che alla fine non interessano a nessuno, una sonora presa di posizione, ad altissima voce, nei confronti della Raggi e del suo modo di amministrare. E arrivano le prime reazioni dal mondo politico dopo la decisione della regione Lazio e della città metropolitana di scaricare i rifiuti di Roma nella discarica di Fosso del Crepacuore. A intervenire sono il capogruppo di Forza Italia, Massimo Boschini e quello del gruppo misto Daniele Perello, in rappresentanza di Civitavecchia 2024. Ancora una volta il presidente della regione Zingaretti e la sindaca della città metropolitana Raggi. Pensano a Civitavecchia quando ci sono da scaricare i rifiuti, affermano Boschini e Perello, mentre i rappresentanti locali di PD e 5 stelle si sbracciano e si abbracciano con le associazioni ambientaliste locali. I loro rappresentanti usano Civitavecchia come pattumiera nel loro più assoluto silenzio. E dopo questa nuova azione contro il territorio speriamo si acceleri per l'uscita dalla città metropolitana, anche grazie alla mozione presentata dalla presidente Mari e votata dal Consiglio. Sulla vicenda dei rifiuti di Roma che saranno ospitati alla discarica di Fosso del Crepacuore interviene anche l'esponente della Lega Daniele Giannini. In questi giorni l'incapacità politica della sindaca di Roma Raggi e del governatore del Lazio Zingaretti ha superato di nuovo il limite, afferma Giannini, a distanza di pochi mesi dall'ultima volta in cui era stato imposto di conferire a Civitavecchia l'imbunizia prodotta da Roma. Siamo pienamente solidali con l'amministrazione tedesco e Civitavecchiesi per ciò che si trova scritto nell'ordinanza senza la minima cognizione per un territorio pressato da un sovraccarico ambientale serio come a Civitavecchia. Raggi e Zingaretti devono rassegnare immediatamente le dimissioni dai loro incarichi per manifesta inadeguatezza, conclude l'esponente leghista. Il provvedimento firmato ieri da Zingaretti che porterà i rifiuti della regione nelle discariche di Viterbo e Civitavecchia è un amaro pesce d'aprile ai danni dei cittadini della Tuscia e della città portuale. Questo è il commento dell'Associazione Ambientalista Affare Verde dopo aver letto l'ordinanza del presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, valida fino al 20 aprile, che dirotta i rifiuti del Lazio nelle discariche di Viterbo e Civitavecchia. In città arriveranno 80 tonnellate al giorno, dichiara Silvano Olmi, presidente regionale di Fare Verde. Adesso torna all'Alto Lazio a subire l'invasione dei rifiuti regionali, esprime forte preoccupazione il presidente del gruppo locale di Fare Verde Civitavecchia. La nostra città non può diventare una pattumiera, dichiara Paolo Giardini. È vero che il provvedimento è limitato nel tempo, ma l'esperienza ci insegna che i provvedimenti temporanei sono spesso prorogati e diventano definitivi. Un dirigente di consorzio Civitavecchiese specializzato nei trasporti e nella logistica è stato denunciato a piede libero dalla Guardia di Finanza per aver illecitamente percepito i fondi stanziati dal governo alle aziende danneggiate economicamente dalla pandemia. Dall'indagine emerso che aveva occultato ricavi di un'importante commessa per rientrare nei limiti previsti dai vari decreti. La somma percepita è stata posta sotto sequestro dal GIP, ma per saperne di più sentiamo il nostro servizio. Vediamo. Un consorzio Civitavecchiese specializzato nella logistica e nei trasporti aveva occultato al fisco proventi per oltre 2 milioni di euro, beneficiando così degli aiuti previsti dal governo per fronteggiare la crisi economica dovuta alla pandemia. A scoprirlo sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Roma che hanno denunciato alla Procura della Repubblica una persona per i reati di malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Le piamme gialle della compagnia di corso Centocelle, coordinate dal locale gruppo, hanno inizialmente avviato accertamenti per riscontrare la sussistenza dei requisiti per la fruizione del finanziamento bancario garantito dallo Stato pari a 30 mila euro, nonché del contributo a fondo perduto di oltre 18 mila euro. Gli approfondimenti sul conto corrente bancario hanno consentito di appurare che le somme ottenute in prestito erano state destinate a scopi personali, anziché al pagamento di dipendenti e fornitori. Parallelamente l'esame della documentazione della società ha evidenziato che il decremento del fatturato subito non era dovuto all'emergenza sanitaria, ma al venir meno, già in epoca antecedente alla pandemia, dei ricavi derivanti dai servizi prestati a favore di un'importante catena di supermercati. Agli occhi dei militari non è sfuggito che il Consorzio ha omesso di adempiere per due periodi di imposta all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni tributarie, nascondendo in tal modo gli introiti della commessa. Gli elementi raccolti hanno permesso all'autorità giudiziaria di chiedere e ottenere dal giudice per le indagini preliminari l'emissione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente avente ad oggetto rapporti bancari e quote di immobili e di società riconducibili all'indagato. L'operazione si inquadra nella più ampia attività svolta dalla Guardia di Finanza di Roma a contrasto dell'economia sommersa e delle frodi fiscali, nonché di ogni comportamento illecito che sottrae risorse destinate alle fasce più bisognose della popolazione. Proseguono i disagi per l'approvvigionamento idrico nelle zone del lungomare di Civitavecchia. Acea Ato2 ha comunicato che pur avendo circoscritto l'area interessata dal disservizio è necessario proseguire l'attività di ricerca del danno che avverranno senza soluzione di continuità. Per alleviare il disagio alle utenze interessate, il servizio di stazionamento in Largo Marco Galli continuerà ad essere garantito fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio che presumibilmente avverranno nella giornata di oggi, salvo imprevisti. Le vie interessate al fuori servizio sono Largo Galli, Via Duca d'Aosta, Largo dei Tirreni, Via Pirgi, Via Malta, Largo San Francesco d'Assisi e Viale della Vittoria. Non solo non esiste nessuna talpa che in comune ha spifferato alla società che gestisce il forno crematorio la strategia dell'amministrazione cittadina, ma la stessa richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti del dipendente di Palazzo del Pincio indagato per rivelazione di notizie ed ufficio è da considerarsi nulla. Lo sostiene il difensore dell'indagato, l'avvocato Davide Capitani, che si dichiara certo che non ci sarà alcun processo al riguardo. Ma sentiamo. In qualità di legale difensore del funzionario comunale raggiunto di recente da una richiesta di rinvio a giudizio e dalle notizie apparse sui quotidiani telematici negli ultimi giorni, posso affermare che se esiste una talpa ed ho più che fondali dubbi a riguardo, quella non è certamente da individuare nel mio assistito. Lo afferma l'avvocato Davide Capitani, difensore del funzionario comunale per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio nell'inchiesta riguardante la presunta fuga di notizie in merito alla convenzione tra il comune di Civitavecchia e l'Altair, la società che gestisce il forno crematorio. Capitani conforta la sua tesi sostenendo di essere in possesso di elementi certi che dimostrano come l'attività d'indagine della procura non abbia portato alla luce alcun collegamento tra il tecnico comunale e la ricezione della relazione da parte della società Altair. L'avvocato sottolinea poi che il suo assistito è scosso dalla continua ridda di voci e pettegolezzi che lo vogliono immolato quale caprio espiatorio di una situazione rispetto alla quale non ha avuto il benché minimo ruolo. In ultima analisi, aggiunge il legale, ha sempre e solo interloquito, come dovrebbe essere di regola in un corretto rapporto tra organo politico e struttura tecnica, con i propri dirigenti e con le cariche politiche di riferimento, mai con società o soggetti estranei all'apparato comunale. L'avvocato capitani giudica poi nulla, come già rappresentato al giudice per le indagini preliminari, la richiesta di rinvio a giudizio della procura notificata in questi giorni, perché il suo assistito non ha potuto rappresentare, come anticipato già al pubblico ministero e richiesto in modo formale, quegli elementi che lo vogliono totalmente estraneo alla vicenda. Il legale si dichiara quindi fermamente convinto che non vi potrà essere pertanto nessuna ulteriore richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del suo assistito e a maggior ragione alcun processo nei suoi confronti. Il Consiglio d'amministrazione dell'Università Agraria di Civita Vecchia ha deliberato la decadenza dell'ex consigliere Roberto Passerini e la perdita della qualità di socio. La motivazione è quella che secondo il CDA dell'Agraria Passerini avrebbe compiuto atti e posto in essere condotte contrarie allo statuto e agli stessi interessi dell'ente. Nello specifico è stata comunicata all'interessato la contestazione relativa alla causa di decadenza da individuarsi nel fatto che dal momento in cui nel 1992 è divenuto proprietario di un terreno oggetto di legittimazione non ha corrisposto il canone annualmente dovuto e una volta richiesto ha eccepito la prescrizione di quanto dovuto oltre l'ultimo quinquennio determinando con tale condotta omissiva e contraria agli interessi dell'ente di cui peraltro era consigliere un grave documento anche patrimoniale. Ospite della trasmissione TRC Mattina Live il Vescovo della Diocesi di Civita Vecchia Tarquinia Ruzza lancia un messaggio di auguri di Pasqua alla città dobbiamo riscoprire la fraternità e guardare verso il cielo afferma il Vescovo. Sentiamo. Ecco un consiglio un messaggio che vuole lanciare appunto in vista della Pasqua oggi è ancora giovedì ancora qualche giorno poi domenica sarà il giorno di Pasqua che vivremo anche quest'anno così come abbiamo fatto nel 2020 un po' in modo particolare senza la possibilità di stare un po' tutti insieme no? Magari nella ristrettezza familiare che però può essere anche se vogliamo un valore aggiunto no? Se se proprio andiamo a vedere ecco le lascio lo spazio per un messaggio che vuole lanciare alla cittadinanza Civita Vecchiese e anche di Tarquinia. Eh io faccio un augurio duplice e un augurio da un lato di fraternità ecco dobbiamo riscoprire la fraternità lo possiamo fare all'interno delle famiglie proprio perché in qualche modo la zona rossa ci obbliga a stare un pochino più stretti con i nostri cari con i nostri congiunti e quindi riscoprire il valore della interiorità e della intimità nelle nostre case nelle nostre famiglie che sia un momento anche di gioco un momento di di serenità al di là delle preoccupazioni che ci sono cercando di superare ma anche un augurio eh di guardare verso l'alto perché se noi dimentichiamo la dimensione dell'alto la dimensione della vita eterna la dimensione del rapporto con Dio e rimaniamo solo nella dimensione che si chiama orizzontale nel momento della preoccupazione umana implodiamo nella tristezza. Noi siamo stati fatti per la felicità, per la gioia, per la vita serena, gioiosa e per il piacere della vita. Dobbiamo tornare a questo ma guardando verso l'alto quindi riferendoci alla speranza che viene proprio dall'amore infinito di Dio e auguro che questo possa portare speranza a tutti. La banda Puccini diretta dal maestro Davia anche quest'anno ha voluto rendere omaggio alla ricorrenza del Cristo morto profondamente legata alle tradizioni cittadine con il brano tormento che sarà trasmesso al termine del nostro telegiornale a seguire due processioni quella del 25 marzo del 2005 e quella del 1990. Presentata questa mattina la terza edizione di San Romolo. L'evento ricorda una vecchia tradizione civita vecchese in cui le band locali ricreavano cover dei brani del Festival di Sanremo. Negli ultimi anni l'appuntamento è stato ripreso in chiave solidale. Il Festival, quest'anno voluto fortemente dall'amministrazione comunale e dalla Fondazione Caricev, si terrà il 7 maggio al Teatro Traiano. Tante le novità a partire dalla formula. Ma sentiamo. La presentazione di San Romolo nella giornata dedicata all'autismo. La Fondazione ancora una volta in campo perché in questo caso una doppia finalità quella culturale da una parte e anche la vicinanza appunto ai ragazzi autistici. Sì è un piacere che oggi siamo qui a presentare la nuova edizione di San Romolo. Ne sono felice per tanti motivi. Forse il più importante è proprio quello che oggi si celebra la giornata internazionale sulla consapevolezza dell'autismo. Si celebra oggi ma domani non deve essere dimenticato e noi oggi celebriamo questa giornata rendendo onore a tutti questi giovani e soprattutto alle famiglie perché le famiglie di questi ragazzi vivono sempre il problema dei propri figli in un modo vorrei dire che li fa essere una mamma identica al figlio con tutti i problemi. La consapevolezza è prendere coscienza e aiutare tutti i giovani siano essi col problema dell'autismo abbiano essi altri problemi li dobbiamo aiutare a vivere nel mondo insieme agli altri giovani. Quando mi hanno proposto questa grande manifestazione di San Romolo sono stata entusiasta per la finalità naturalmente che questa di stare accanto a persone che hanno delle altre abilità. Speriamo di dare un grande spettacolo alla nostra città e a tutte le famiglie. Come detto ci sarà una raccolta fondi però i ragazzi saranno anche protagonisti di questa manifestazione in che modo? Questo progetto San Romolo è innanzitutto uno dei nostri maggiori sponsor per le nostre attività e soprattutto per questo progetto inclusivo che è un amico in più. Durante l'anno i ragazzi si sono preparati con i limiti che la pandemia ci ha imposto e si esibiranno sul palco come gli altri cantanti. San Romolo come progetto musicale sposa perfettamente quella che è la nostra politica di inclusione e di massima espressività e ne abbiamo tratto un enorme beneficio. Ringraziamoci, uniamo, ringraziamenti alla fondazione e al comune per darci questa possibilità e ringraziamo tutti gli organizzatori. Sarà sicuramente diverso il San Romolo perché sarà completamente in streaming senza pubblico e anche farlo in streaming è un forte segnale per far ripartire un po' la macchina lavorativa. I ragazzi si cimenteranno nel riprodurre dei brani storici della storia di Sanremo rifatti a modo proprio quindi anzi verrà premiato sicuramente chi mette tanta della sua arte quindi chi arrangerà meglio il proprio pezzo. Ovviamente speriamo di infiocchettare tutto con il divertimento che abbiamo avuto nelle passate edizioni. Sarà un po' più televisivo diciamo quest'anno anche per il discorso del covid però questo ci permetterà di sperimentare perché è una situazione anche nuova che non è stata mai fatta a Citecchia, una sorta di diretta vera e propria quindi potrebbe essere interessante vedere come le persone poi si organizzano e vedono e riescono a capire questo tipo di intervento diciamo. Il gruppo consigliare del Partito Democratico interviene sulla questione del verde pubblico e delle linee guida di gestione di CSP proposte dall'amministrazione comunale. Per ridurre i costi del verde e migliorare un servizio ritenuto carente e inefficace affermano dal PD l'amministrazione comunale ha attuato la reinternalizzazione della gestione del verde in capo al comune stesso sottraendola a CSP con affidamento a un'azienda privata. Sembra invece che da quando il servizio è stato esternalizzato la gestione dei rifiuti prodotti a seguito dello sfalcio non sia più onere di chi detiene l'appalto del verde ma che la rimozione e lo smaltimento sia rimasto in capo a CSP che ne deve provvedere utilizzando proprio personale sostenendo quindi dei costi. Stiamo dunque assistendo a una singolare spacchettamento della gestione del verde pubblico che lascia a CSP solo i costi che ricadono interamente sui cittadini mentre riserva benefici economici al privato che pur espletando solo una parte del servizio viene remunerato anche per il lavoro svolto in sua vece da altri. I cittadini meritano una risposta concludono dal partito democratico e spicca soprattutto la ripartenza del calcio nel mega calendario di aprile per lo sport cittadino. Tanti gli eventi di interesse soprattutto nel pugilato e nella ginnastica artistica ma vediamo il servizio. Sarà un mese di aprile speciale per lo sport civita vecchiese con il ritorno del calcio che mancava ormai dallo scorso ottobre e numerosi eventi di spessore. Bisognerà però attendere perché con la Pasqua nel primo weekend del mese di rinvio del match degli Snipers Tecno Alt di Hockey ci sarà un piccolo periodo di pausa indigesto perché non lontano dal lungo stop causa covid. Nella serata di sabato 10 aprile trasferta insidiosa per la Semar 90 di basket che andrà a fare visita alla fortitudo nell'ultima diandata di Cigold. Vincere è fondamentale per prendere la testa solitaria della classifica ma quel giorno sarà fondamentale anche per la SGIN di ginnastica artistica per l'ultima tappa di serie 1 a Napoli. Le ragazze cercano di mantenere il secondo posto in classifica mentre i maschi vanno a caccia di una difficilissima salvezza. Il giorno dopo sarà quello dell'esordio del civita vecchia calcio nel campionato di eccellenza. Alle 16 Altamagnini arriverà la visita della Boreale, una di quelle squadre che si è rinforzata grazie allo svincolo di diversi giocatori da squadre che non riprenderanno la stagione. E un altro esordio avverrà sabato 17 con la ripartenza della serie C di calcio a 5 per l'atletico Tirrena che alle 16.30 ospiterà al campo di San Liborio la Littoriana formazione di Latina. Domenica 18 toccherà l'artalaxuri di pallavolo impegnata sul campo del Tarquinia in un derby molto atteso. Fischio di inizio alle 16, stesso orario di partenza a Vignanello per il match del Civita Vecchia di Mister Caputo contro la Favl Cimini. Venerdì 23 torna sul ring il pugile Michael Magnesi per la prima difesa del titolo mondiale Super Piuma. A Zagarolo Long Wolf cercherà di sconfiggere il sudafricano Canile Bulana in un combattimento che preannuncia tanto spettacolo. Il giorno dopo nuovamente in campo l'artalaxuri richiamata ad una grande prova contro il Cali, una delle candidate alla qualificazione al girone Elite. Si gioca alle 19 al Palasporto in Solera a Tamagnini. Si chiude il giorno di Santa Fermina. Quasi sicuramente non ci sarà la processione ma gli appassionati di sport non avranno il bianco sul calendario perché al Tamagnini è derby per il Civita Vecchia che affronterà il Ladispoli. Fischio di inizio alle 16.00. E non dimentichiamo che ancora non conosciamo il calendario della Margutta per la seconda fase e le date dei tre recuperi che dovrà sostenere l'artalaxuri. E proseguiamo con il calcio. È stato un turno prepasquale di grandissime emozioni per Alex Gagliardini. Il difensore Civita Vecchiese ha segnato il gol decisivo per la vittoria della sua Cinzia al Balonga contro il Rieti per il match valevole per il campionato di Serie D. Sotto 1-0 i Castellani sono riusciti a capovolgere la situazione nel finale. Gagliardini ha dato la vittoria ai suoi compagni grazie a un tapin sugli sviluppi di un calcio d'angolo al novantesimo minuto. Per i Castellani è un gran momento dopo la vittoria sul campo del capolista Campobasso. Ora questi tre punti quasi insperati. Il Cinzia al Balonga è momentaneamente terzo con 42 punti a meno 8 dalla vetta. Daniele Belloni torna al Cerveteri. Il giovane esterno d'attacco Civita Vecchiese che ha lasciato la Corneto Tarquina nelle scorse settimane ha deciso di tornare in una squadra molto cara per lui. Infatti nell'annata passata il classe 2001 ha vinto il campionato di promozione proprio con i Verdi Azzurri che erano guidati da Daniele Fercassa in panchina. Belloni aveva anche avuto modo di mettersi in mostra tra l'altro anche realizzando un bellissimo gol da 40 metri. Ed è tutto per questa edizione ma seguiteci comunque anche nei nostri canali social Facebook, Youtube, naturalmente sul sito telematico www.trcgiornale.it. E non mi resta quindi che augurarvi un buon proseguimento di programmi naturalmente di serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.